La Corea del Nord fa sempre più paura. Il ministro degli esteri ha invitato tutte le ambasciate straniere a Pyongyang di prepararsi al rimpatrio dello staff dopo l'annuncio di un possibile attacco nucleare contro gli Stati Uniti, pronti all'uso due missili a medio raggio. Il servizio è solo retorica militare con l'obiettivo di rinegoziare le sanzioni. Nessuno può dire se una guerra scoppierà a breve, ma di certo la Nord Corea continua ad alzare i toni delle provocazioni. Ha caricato su rampe mobili due missili a medio raggio e li ha nascosti in un impianto nei pressi della costa est, riferisce Seoul, che ha messo in azione due caccia torpedinieri della Marina per monitorare eventuali lanci. Sale il livello di guardia negli USA, minacciati da Pyongyang di un attacco nucleare senza pietà. E parallelamente all'appello della Casa Bianca al giovane leader supremo Kim Jong-un a scegliere la strada della pace, il Pentagono conferma il dispiegamento sull'isola di Guam di una batteria antimissile per difendere le sue basi da eventuali attacchi. Prendiamo tutte le precauzioni necessarie, le parole del portavoce di Obama, Kearney, a livello diplomatico pressioni di varie potenze sulla Cina per una mediazione nella crisi. L'escalation di minacce non piace infatti neanche a Pechino, che ha criticato di recente la riapertura dell'impianto nucleare di Yongbyon. Summit a porte chiuse in un agriturismo vicino Roma, oggi per deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. La riunione con Beppe Grillo è stata convocata dopo le tensioni interne scoppiate in merito alla linea politica. Sarebbero almeno 10, infatti, parlamentari grillini disponibili a sostenere un governo Bersani. Ma il capogruppo al Senato Crimi ha smentito qualsiasi tipo di frizione all'interno del Movimento. Beppe non sbaglia, anzi è lungimirante, ha affermato. Nel PD resta la spaccatura dopo lo sfogo ieri di Matteo Renzi. Ho detto quello che pensa il 95% degli italiani, ha ribadito anche oggi il sindaco di Firenze. Stiamo perdendo tempo. Dal PDL, invece, Berlusconi rilancia ancora una volta le larghe intese. Riteniamo prioritario dare vita subito a un governo stabile e forte. Se il Partito Democratico dirà no a questa soluzione, si dovrà ricorrere alle elezioni anticipate, ha affermato il Cavaliere. Dramma, Civitanova Marche, marito e moglie si sono uccisi impiccandosi a causa delle gravi difficoltà economiche. Lui aveva 62 anni ed era un esodato, lei 68 e viveva con una pensione modesta. E dopo la scoperta del duplice suicidio, anche il fratello della donna si è ucciso gettandosi in mare. Toleranza zero sul tema della pedofilia che ha scosso la Chiesa. È la linea espressa da Papa Francesco che stamani ha sottolineato la continuità col pontificato di Benedetto XVI. Non ci salvano né maghi né tarocchi, ma solo Gesù, ha detto Bergoglio, durante l'omelia della messa celebrata nella Domus Santa Marta. Migliora il rapporto tra l'indebitamento netto e il PIL. Nel 2012 è sceso dal 3,7 al 2,9%. Lo comunica l'Istat sulla base delle rilevazioni sul conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Vola invece la pressione fiscale. Nel quarto trimestre del 2012 ha toccato il 52%, un valore record assoluto, con un balzo di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La media annua si è attestata al 44%. I sigilli sui mercati di pollame vivo a Shanghai ne sono l'ultima conferma. In Cina è tornata la paura della viaria. Ad ora ci sono 14 casi confermati di infezione dal virus, 6 dei contagiati sono morti. Quattro vittime erano di Shanghai, dove le autorità per cercare di contrastare la diffusione del virus hanno dato l'ordine di abbattere 20.000 fra polli, anatre, oche e piccioni. Le autorità sanitarie hanno escluso la possibilità di contagio da uomo a uomo, ma ancora non è stato capito qual è esattamente l'animale causa dell'infezione e la via di trasmissione. Rivolta nei fast food di New York, centinaia di dipendenti hanno scioperato e sono scesi in piazza denunciando di essere i nuovi schiavi pagati 8 dollari l'ora, circa 6 euro. Non a caso l'associazione che anima la protesta Fast Food Forward ha scelto come giorno della manifestazione l'anniversario dell'assassinio del leader dei diritti civili Martin Luther King.